Alla sensazione del corpo puoi arrivare a essere più in linea con te stesso, ti muovi meglio nella tua vita, ma allora qual è il processo di consapevolizzazione? Che cosa succede in noi partendo dalle sensazioni? Ti mostro che cosa succede in questo processo di consapevolizzazione. Allora, meditando io per esempio osservo, che cosa osservo? Cosa osservo per prima? Ma osservo proprio queste sensazioni corporee, tutto parte da lì. Sensazioni corporee, mentre io le osservo e ne sono consapevole, faccio emergere qualcos'altro, faccio emergere le emozioni. Ti faccio un esempio, anzi te ne faccio tre, ok? Allora, se c'è tensione a livello della pancia, molto probabilmente ci potrebbe essere un'emozione come la rabbia. Calcola che le emozioni sono quelle che ho studiato io, ci sono tante scuole, no? Quindi secondo alcune sono quattro, secondo alcune sono sei, eccetera, eccetera. Le emozioni primarie. Quelle che ho studiato io sono gioia, tristezza, paura, rabbia. Gioia, tristezza, paura, rabbia. E nel film Inside Out c'è anche disgusto. Allora, quando io provo una sensazione appunto di tensione a livello della pancia, probabilmente c'è un'emozione di rabbia. Probabilmente, non è detto, ma l'osservazione permette proprio di far emergere queste cose, ok? Quindi intanto parto da lì e noto che c'è tensione a livello della pancia, per esempio. Potrei notare che a livello del petto c'è un senso di costrizione, noto che c'è il petto chiuso, ok? E quello potrebbe essere paura. Oppure noto che c'è un'apertura a livello del petto, una specie di vibrazione piacevole. Quella potrebbe essere gioia. Quindi quando io sono consapevole delle sensazioni corporee, faccio emergere le emozioni. E divento consapevole delle emozioni. Quando io sono consapevole delle emozioni, faccio emergere i sentimenti. Che cosa sono questi sentimenti? Che differenza c'è con le emozioni? I sentimenti è qualcosa di molto più legato nel tempo. Le emozioni cambiano in continuazione. I sentimenti sono un po' più profondi e spesso sono delle emozioni reiterate in qualche modo. Ti faccio un esempio. Il sentimento corrispondente alla rabbia, all'emozione della rabbia, è l'odio. Il sentimento legato all'emozione della gioia potrebbe essere amorevolezza. Spesso, ovviamente non è solo quello. C'è molto di più nel sentimento di amore che la sola gioia. C'è qualcosa di molto più profondo. Magari qualcosa di più pacifico. E' qualcosa di più elaborato il sentimento rispetto all'emozione. Però diciamo che il sentimento e le emozioni, cioè quando io sono consapevole delle sensazioni corporee, faccio emergere facilmente un'emozione. Quando io sono consapevole delle emozioni, posso far emergere anche cosa provo a livello sentimentale, a livello dei sentimenti. E quando io so quelli che sono i miei sentimenti, io compio una magia, perché capisco cosa voglio realmente dalla vita. Cioè, se io so cosa non mi piace fare e cosa mi piace fare, beh, forse comincio ad aggiustare la mia vita in modo da essere più coerente con essa. E' inutile che continuo a fare cose che non sopporto di fare. Probabilmente mi vengono anche male. Questo vale per esempio anche in ambito lavorativo, no? E forse è meglio, se c'è invece qualcosa che io amo fare, forse mi verrà meglio. E forse sarò più apprezzato se faccio un lavoro del genere. E non dico di fare... questi sono processi di consapevolezza che portano dei radicali cambiamenti. Ma nel tempo, non è detto che succeda tutto, non deve essere una fuga, deve essere una scelta consapevole. Come vedi questo è un processo di consapevolizzazione. E quindi è quando sono consapevole che faccio delle scelte giuste. Quando invece le faccio reattivamente, improvvisamente, forse lascio un lavoro che invece aveva una sua funzione ben precisa. Ma quando quindi so che cosa... e sono consapevole di che cosa voglio realmente della vita, beh, ecco che il mio mondo è nelle mie mani. Ho in mano il mio mondo. Sono di nuovo il protagonista della mia vita. Non faccio più quello che gli altri si aspettano da me, ma faccio quello che realmente voglio per me stesso. C'è un libro scritto da un'infermiera che è stata accanto a dei malati terminali, che ha raccolto un po' la casistica dei rimpianti maggiori delle persone in fin di vita. La numero uno è... Avrei voluto vivere una vita più in linea con me stesso, piuttosto che vivere la vita che gli altri si aspettavano da me. Ecco, questo è uno dei rimpianti maggiori. Ma gli altri cinque si assomigliano, sono molto simili. Noi spesso viviamo non la nostra vita, ma quella che gli altri si aspettano e non viviamo. E appiattiamo la nostra vita. Quando tu sei consapevole di che cosa succede in te, intanto sei più luminoso, sei più gioioso, gli altri ti ameranno di più, le cose che farei ti verranno meglio, e hai il tuo mondo in mano, il tuo mondo ti appartiene. Non vivi più una vita sacrificata pensando di far felici gli altri, ma vivi una vita in base a quelle che sono veramente le tue prerogative, il motivo per cui sei venuto in questa terra. Ma ti lascio a indagare, che è la cosa migliore. Quindi il mio augurio è che tu sia felice, consapevole di quello che realmente vuoi della vita, e che tutti gli esseri siano felici.